La Virtus Franca Villa torna a perdere in campionato, lo fa in casa di un Bari che non poteva permettersi un altro passo falso e che era costretto a vincere per mantenere viva la corsa al primo posto. La sconfitta del San Nicola arriva 74 giorni dopo l'ultimo K.O. esterno degli Imperiali, che tornano a casa forse un po' delusi, ma sicuramente non troppo demoralizzati. Il passivo appare esagerato per quanto visto soprattutto nel primo tempo, tante invece sono le proteste giunte in seguito al generoso penalty concesso ai Galletti sul punteggio di 1-1. Senza quel rigore avremmo forse assistito ad un secondo tempo ben differente. Una prima frazione di gioco, chi ha visto i biancazzurri prima tener botta e poi addirittura graffiare i padroni di casa, che hanno sia avuto svariate chance, ma allo stesso tempo erano consapevoli di non poter mai abbassare la guardia. Il gol del 3-1 di inizio ripresa ha gelato gli animi, il 4-1 ha poi chiuso anzitempo il match. Prestazione agrodolce, quella di Diamante Crispino, che ha alternato guizzi importanti a cattive letture in occasione dei gol subiti su azione. Luci ombre dunque per l'estremo difensore biancazzurro, che per la quarta volta in carriera subisce un poker. Fra le note positive di questo derby troviamo il quinto gol in campionato del capocannoniere Emanuele Castorani, la più grande rivelazione stagionale virtussina, che ora punta a diventare il centrocampista più prolifico della storia di questo club. Deve evidenziare anche l'ottima prova targata Nicola Ciccone, suo l'assist per il gol del momentaneo pareggio, ma quella dell'ex per Golettese non sembrava affatto solo la seconda uscita in biancazzurro. L'intesa con Vasquez e compagni pare essere già collaudata, ed ora in avanti non può che migliorare. Nei minuti finali spazio al debut di Adorante, attaccante classe 2000, che Trocini ha avuto modo di conoscere personalmente solo nel Pullman, in viaggio verso il San Nicola. In sostanza, inutile far drammi, perdere in casa di questo bari è lecito, a prescindere dal risultato finale. Ora la Virtus è chiamata a gettarsi alle spalle questa sconfitta, per preparare al meglio il match che vedrà il Francavilla ospitare la Turris, sabato pomeriggio alle ore 15.